Buongiorno a tutti dal vostro Conte Caimano. L'argomento della prossima Sunday Session di maggio del 2021 verterà su un argomento che vuole essere una parte conclusiva per tirare in fila di tutto quello che abbiamo visto o almeno di una buona parte di quello che abbiamo visto durante le sessioni precedenti. Nello specifico andremo a utilizzare una serie di indicatori che abbiamo visto e studiato nelle sessioni precedenti con l'intento di creare proprio un 3D system che potrà essere utilizzato sia in automatico ma anche in manuale. In sostanza andremo a ripercorrere come nasce proprio una strategia di trading nel senso che cos'è che bisogna fare come i primi passaggi per realizzare poi il codice che servirà a realizzare il trading system. Quindi diciamo bisogna partire proprio dai principi base di cos'è che come vogliamo intervenire sul mercato, quanto sarà la posizione che vorremmo andare a investire, con che criteri determinare gli eventuali stop loss, quante azioni comprare e quando venderle, insomma tutte quelle informazioni che sono alla base della strategia di trading. Fatto questo andremo proprio a realizzarne uno utilizzando alcuni strumenti che abbiamo già visto nelle sessioni precedenti. Quindi andremo a prendere questi indicatori e costruiremo proprio il codice per realizzare la strategia che abbiamo descritto con il passaggio precedente. Infine, non meno importante, andremo anche a creare l'indicatore che rappresenterà sul grafico del titolo, dei prezzi del titolo, tutti i segnali e tutte le informazioni che il trading system vorrà darci. Quindi questo servirà principalmente a una fase iniziale per studiare e verificare il buon funzionamento della strategia, ma nello stesso tempo anche poi permetterà a tutti quanti di monitorare l'andamento della posizione aperta per monitorare l'andamento dello stop loss oppure i vari segnali che dovranno poi essere eseguiti in manuale per chi non ha la possibilità di fare trading automatico oppure anche soltanto a scopo di monitoraggio dell'andamento della strategia stessa. Quindi in sostanza impareremo come si fa a creare proprio il trading system, come si fa a mantenerlo e come si fa anche ad ottimizzarlo in alcuni passaggi fondamentali per definire i vari criteri di utilizzo. Bene, vi aspetto!